Si è tenuto ieri mattina presso il comune ad Agropoli il tavolo tecnico incentrato sulla risoluzione della problematica riguardante il cittadino con problemi di tossicodipendenza e psichiatrici cosiddetto spiccioletto che sta creando allarme sociale nella città di Agropoli. Hanno partecipato i dipartimenti ASL di salute mentale, dottor Domenico Pascale e dottor Aniello Baselice e SERD dottor Carmine Nigro e assistente sociale la dottoressa Barbara Garofalo. Ha preso parte anche il piano sociale di zona Salerno 8 rappresentato da Maria Giovanna D'Arienzo nonché assessore alle politiche sociali del comune di Agropoli, il comandante della polizia municipale di Agropoli. Il dottor Sergio Cauceglia è un familiare dell'uomo. Insieme agli specialisti ha dichiarato il sindaco Adamo Coppola abbiamo trovato la soluzione che possa favorire il recupero della persona e la risoluzione della vicenda che si metterà in campo nei prossimi giorni.